la seguente testimonianza è tratta dal libro di padre costantino capobianco intitolato detti e aneddoti di padre pio da pagina 115 a pagina 118 ecco cosa racconta padre costantino capobianco si inaugurava all'asilo nelle immediate vicinanze della chiesa di santo nofero situata a san giovanni rotondo e il signor antonio massa che da tutti era conosciuto come totonno massa vedendomi da solo mi invitò ad andare a casa sua e lì mi raccontò l'episodio seguente il primo dei suoi figli che all'epoca dell'episodio era ancora figlio unico era gravemente malato e tutti ne temevano la morte da un momento all'altro per questo motivo lo vegliavano attorno la mamma il papà e i nonni era notte inoltrata ed era il turno della mamma gli altri dato il grande freddo che faceva si stavano scaldando al focolare all'improvviso ecco la mamma col volto pieno di lacrime che scendevano abbondanti è morto pensavano tutti quanti e chiesero che è successo e la mamma frenando a stento il pianto e con voce rotta dall'emozione disse niente di male anzi una grazia proprio adesso il bambino ha cominciato a ridere spaventata credendo che si trattava di una crisi che preannunziava alla fine mi sono avvicinata e gli ho detto che figlio mio ti senti male e lui ha risposto mamma padre pio mi ha fatto il solletico ai piedi corremmo tutti a vedere continuò totonno il bambino si era assopito da quell'istante cominciò a stare meglio e quarì contro tutte le prognosi ed ora eccolo qua chiamò il figlioletto e me lo mostrò un ragazzino bello e robusto erano passati 5 6 anni da quella notte che sembrava dovesse portargli la morte e che invece aveva segnato l'inizio della sua rapida guarigione dopo che come come elli disse padre pio gli aveva fatto il solletico ai piedi grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima